Ciao a tutti collezionisti e collezioniste e benvenuti su Lele King TV, il canale dedicato alle collezioni calciatori panini e non soltanto ragazzi, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, attivate la campanella e lasciate subito un like nei primi minuti, è importante fare queste tre cose per supportare il canale gratuitamente ragazzi, a voi non costa nulla, a me mi aiutate a crescere. E detto questo ragazzi, quest'oggi andrò a fare il pronostico di Milan Genoa e di Lazio Torino, in questo weekend di Pasqua alcune giocheranno venerdì tipo Milan Genoa e poi farei giocare all'Inter contro lo Spezia, Lazio Torino e le altre giocheranno sabato e poi ci sono le partite di lunedì che adesso non vorrei sbagliare ma sicuramente è Napoli-Roma, quello sono sicuro, e sarà il prossimo pronostico di Atalanta-Verona se non sbaglio. Allora, quindi quest'oggi andremo a fare il pronostico di questi due match, l'altra volta purtroppo, per mia colpa, abbiamo pronosticato il Milan e non ho messo la figurina di Maldini contata come gol per il Milan, mio errore, mio grandissimo, grandissimo errore. Mi raccomando ragazzi seguitemi anche sugli altri social tra cui Instagram e TikTok, io direi di iniziare a spacchettare e a pronosticare questo match, questi due match. Iniziamo con le prime cinque bustine che saranno quelle del primo tempo, fischiamo l'inizio dei match. Vai si inizia ragazzi, iniziamo a spacchettare il primo pacchetto, vediamo cosa esce fuori, se si sbloccheranno subito i risultati oppure no. Prima figurina è del Frosinone, del gioco del Frosinone, i brichenti, Boloca e Ricci, poi troviamo Ternavoli, Petagna, poi troviamo Hebraham della Roma, quindi niente di fatto per adesso, per nessun match. Ongla del Verona e Carstop della Roma, quindi 0-0 su tutti i fronti in questo primo pacchetto. Andiamo col secondo, vediamo cosa succede. Abbiamo tre giocatori del Lecce, Luscioni, Kendray e Blin, tre giocatori della Cremonese, Vito, Ciofani e Baez. Poi ragazzi commentate sotto nei commenti il vostro pronostico di questi due match, mi raccomando. Bastoni dell'Inter, della Salernitana, Stranberg e la Maglia della Salernitana. Quindi ancora 0-0 ragazzi, incredibile, 0-0 ancora su tutti i campi. Andiamo con il terzo pacchetto, vediamo se si bloccherà qualcosa nel terzo pacchetto. Dove troviamo invece tre giocatori del Crotone, sono Bulic, Zanellato e Borello. Poi troviamo Keen della Juventus, Greenjoy del Venezia, lo Stemma del Cagliari e Malinovischi dell'Atalanta, giocatore ucraino. Ragazzi tre bustine, ancora nessun gol. Andiamo con il quarto pacchetto, è il penultimo per il primo tempo. Troviamo l'allenatore, ormai ex allenatore del Genoa, Shevchenko. Comunque Milan 0-1 Genoa, incredibile, secondo me è un po' clamoroso. Gaiolo della Salernitana, gli stemmi della Serie C che c'è Catanzaro, Fidelissandria, Foggia e Juve Stabbia. Lo Stemma del Perugia e Falcone, secondo portiere della Samp, nata a Roma, che ha giocato anche contro la Roma, lui è anche tifoso della Roma. Quindi, ultima bustina, ne abbiamo fischietto il gol del Genoa, scusate, il gol del Genoa, Shevchenko. Mi sono scordato la cosa più importante, il fischietto, ragazzi, il fischietto. Ho comprato apposta per fare queste cose, per fare queste stupitaggine, sicuramente un po'. Quindi, ultimo pacchietto per il primo tempo, troviamo Mertens del Napoli, poi troviamo Perisic dell'Inter, Badley del Genoa, ed è 2-0 per il Genoa, incredibile, ragazzi. E gol della Lazio con Cataldi, Lazio 1-0 Torino, e la maglietta dello Spezia. Quindi, fischiamo la fine dei primi tempi. Primo tempo, attenzione, clamoroso a Milano, Milan 0-Genoa 2. A Roma, tra Lazio e Torino, 1-0 per la Lazio. Allora, io direi che qua è un po' difficile questo risultato. Qui, ragazzi, sarebbe clamoroso, per Genoa sarebbe un grande risultato. Il pallone è rotondo, può succedere di tutto, ma comunque resta clamoroso. Qui ci può stare, qui ci può stare, anche se in questa occasione, come sapete, io simpatizzo per il Torino, che spero che riesca a fare il colpaccio. Comunque, primo tempo, che per adesso, secondo le figurine del Calciatori Panini 2021-2022, si presenta in questo modo. Andiamoci a giocare il secondo tempo, fischiando l'inizio del secondo tempo. Si inizia il secondo tempo, altre cinque bustine da andare ad aprire. Vediamo la prima cosa, esce fuori dalla prima bustina. Esce fuori Morata, attaccante della Juventus. Dybala della Juventus. Calabria del Milan, gol del Milan, quest'orto glielo fischiamo, ragazzi, non mi scordo. Gol del Milan, Milan 1-Genoa, 2-A, accorcia le distanze. Poi troviamo lo stemma della Cremonese e Elmas del Napoli. Quindi, gol del Milan subito nella ripresa. Milan che sicuramente vuole recuperare questo risultato di svantaggio contro il Genoa. Andiamo con un'altra bustina e troviamo Gabbiadini della Samp. Calcio femminile, che non conta, della Lazio, lo leviamo. Delufeo dell'Udinese, Milenkovic della Fiorentina e Burabia dello Spezia, ok? Poi ci sarà anche il VAR a termine di partita, ragazzi. Vediamo se ho saltato qualche figurina di qualche squadra. Allora, andiamo avanti. Come è successo già con il Milan? Andiamo a controllare questa volta. Antiste dello Spezia. I tre giocatori del Frosinone. I tre giocatori della Gremonese. Maignan del Milan. Ed è 2-2. 2-2 per il Milan che in rimonta, in casa, sta pareggiando momentaneamente contro il Genoa. E Andanovic dell'Inter. Quindi, per adesso, Milan-Genova 2-2 e Lazio-Torino resta sull'1-0. Mancano due bustine, ragazzi, al termine del video e del pronostico. Andiamo ad aprirci questa nona bustina, che è la penultima. E vediamo cosa esce fuori, ragazzi. Chi è? Chi sei? Tu è un portiere sicuramente. È del Venezia. Ed è Romero, portiere argentino. Tre giocatori del Benevento. A campo, Rattello e in prota. Occhereche del Venezia. Questo proprio non lo so pronunciare. Del Cagliari. E Ayan del Sassuolo. Ultima. Ultima bustina prima del triplice fischio, ragazzi. Poi ci sarà il VAR. Andremo a controllare un attimino se abbiamo saltato qualche figurina, qualche squadra. Andiamo a quest'ultima bustina. Ultima possibilità. Oddio. Potrebbe essere il Milan, però è calcio femminile, ragazzi. Quindi non conta. Come non è valso per la Lazio, non vale neanche per il Milan. Calcio femminile della Juventus. Capezzi della Sernitana. Palomino dell'Atalanta. E Candreva della Samp. Allora, i risultati dovrebbero finire così. Però andiamo a vedere al VAR se abbiamo saltato qualche figurina di qualche squadra di queste che abbiamo qui. Sernitana. Beh, queste calcio femminile non ci interessa. Sassuolo. Cagliari. Venezia. Venezia di nuovo. Inter. Cremonese. Frosinone. Spezia. Spezia. Fiorentina. Udinese. Lazio calcio femminile. No. Samp. Napoli. Juventus. Juventus. Inter. Napoli. Sampdoria. Salernitana. Atalanta. Venezia. Juventus. Salernitana. Inter. Roma. Hellas. Roma. Napoli. Niente. Quindi andiamo a vedere gli stemmi. Ma anche gli stemmi. C'abbiamo lo stemma della Cremonese. La maglia dello Spezia. Stemma del Perugia. Il Cagliari. La Sernitana. Quindi niente. Così termina il figo pronostico. Tripoli. C'è fischio. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.